La Nissa ufficializza l'arrivo di Alessandro Settineri sulla panchina biancoscudata. Nativo di Acireale, 46 anni, Settineri, ex-Sancataldese, è stato anche coordinatore e selezionatore di rappresentative giovanili. Nel suo curriculum pure Aci Sant'Antonio, Belpasso, Leonzio, Scordia, Canicattì, Mister Bianco e Ragusa. Dirigenza e tecnico si erano già incontrati nei giorni scorsi e avevano trovato un'intesa di massima. Adesso i tifosi attendono di conoscere il nuovo volto della squadra. Diverse trattative sono state avviate dal direttore sportivo Massimo Ferraro e se ne saprà di più nel corso della settimana.